La iono risonanza è una tecnica di medicina complementare che noi abbiamo cominciato ad utilizzare nel 2003 l'ospedale San Martino con l'approvazione del comitato etico dell'ospedale poiché uno dei principali effetti della iono risonanza è quello di abbattere lo stress ossidativo. Lo stress ossidativo è importantissimo, intanto cos'è lo stress ossidativo? Sono radicali liberi, cioè l'ossidazione, quello che nel ferro provoca la ruggine per intenderci. Questi radicali liberi sono quelli che danneggiano le nostre proteine e quindi danneggiano le nostre cellule. Noi purtroppo per causa dell'inquinamento, per causa dei medicinali, per causa della vita stressata che noi viviamo per causa del fumo, abbiamo uno stress ossidativo purtroppo piuttosto elevato. La iono risonanza ha un effetto meraviglioso sullo stress ossidativo. La iono risonanza consentendo un passaggio di ioni attraverso le membrane cellulari influenza gli enzimi antiossidanti e tutte le attività antiossidanti e molte delle attività protettive cellulari come l'hot shock protein che è una proteina che viene prodotta in difesa della cellula quando ci sono degli eventi scioccanti come il calore e cose di questo genere induce la produzione non solo delle sostanze antiossidanti ma ha la capacità anche di ridurre la produzione delle citochine proinfiammatorie perché agisce su alcune molecole di trasduzione che sono quelle che facilitano la produzione di queste sostanze dell'infiammazione. Quindi tutta una serie di effetti che in poco tempo migliorano la qualità di vita del paziente.